ancora a rischio. Le norme sulla mobilità non cambiano, la regola rimane restare a casa salvo emergenze. Lo dice in una nota il Viminale, la circolare inviata ieri ai prefetti è solo interpretativa, spiega che è consentito, cioè ad un solo genitore, fare un giro vicino casa con i figli minori. Vittorio Romano. Le norme non sono cambiate, ci si può allontanare da casa solo per motivi di lavoro, salute o per l'acquisto di cibo e farmaci. La circolare del Viminale, spedita ieri ai prefetti, chiarisce solo l'interpretazione delle regole con le quali stiamo imparando a convivere. È consentito, si legge nella circolare, ad un solo genitore per volta, passeggiare accanto ai propri figli minori, rimanendo sempre nei pressi della propria abitazione. Quindi nessuna gita fuori porta con la famiglia, niente partite di pallone in strada ed ovviamente restano chiusi parchi, giardini e ville. Alla norma nazionale, che ha suscitato i timori di alcuni governatori, si aggiungono le ordinanze regionali, in campagna, ad esempio, vietate anche le passeggiate. L'attività motoria resta consentita, in base alla norma nazionale, la corsa nei pressi della propria abitazione. Il Veneto ha specificato anche la distanza massima, 200 metri. La campagna ha vietato ogni forma di sport all'aria aperta. Su tutto il territorio nazionale bisogna comunque evitare ogni forma di assembramento. L'ultimo punto della circolare del Viminale riguarda i più fragili. Gli anziani e le persone inabili, spiega il Viminale, possono essere accompagnati a prendere un po' d'aria sotto casa da chiunque gli assista.